Buonasera, mi chiamo Lord Giacomo Giovanni Giardina, sono presidente VAPA Monte Carlo e vicepresidente UNESCO Genova Liguria. Complimenti per la grande professionalità del Festival Golden Times e a tutti i suoi partecipanti. Ho scelto questi artisti, Svetlana Pchenotova, Birds, Svetlana Zeravalinkana, Dog 10, Morozova Cat and Flower 10, Barca 10, mi aiuti un attimo signora a questo. Ageiva Rufina. Ageiva Rufina, Bot 10, la stessa Si 10, Anna Rogoteva Montaigne, 10, per la danza. Elena Antonova Esmeralda, 10, Olga Gresfincina, 10, Sofia Lina. La Luc, Grand Prix, per i gruppi, Edelweiss, Maria, Smala, Kaukas Folk Group. Complimenti e spero di potervi vedere di persona per potermi complimentare ancora. Grazie, buonasera.